Se è una storia che sto raccontando, posso scegliere il finale. Ci sarà un finale alla storia e poi seguirà la vita vera. Posso continuare da dove ho smesso. Allungare le braccia quando le ziere guardavano e toccarci le mani attraverso lo spazio tra un letto e l'altro. Leggevamo il movimento delle labbra con le teste posate sul cuscino, voltate di lato, osservando l'una e la bocca dell'altra. In questo modo ci sono scambiati i vostri nomi di letto e di letto. Alma, Giussanina, Dolores, Dolores, Giussanina, 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 Giussan Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.